Ho personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. Se dovesse vincere il no, lei sarebbe disposto a un governo di scopo che a quel punto dovrebbe cambiare la legge elettorale? Sarebbe indispensabile farlo? Ma secondo lei, io vengo a parlare di quello che faccio dopo aver detto che tolgo dal tavolo questo argomento? Non ne parlo neanche sotto tortura di quello che faccio io? Non mi ha detto se se ne andrà, se vince il no, il referendum... Le ho già risposto che non le parlo più di questioni che mi ricordano... Va bene, non ne parliamo più. Grazie a tutti.